Siamo alle Doiani in questa splendida serata che forse ci dà tregua e ci dà l'inizio dell'estate per l'inaugurazione di un ulteriore punto vendita dei nostri amici. Seguitemi. Un altro punto vendita è un punto di partenza o la fine è qui e non ne fate più? Chi risponde? Un punto di partenza. Quindi ricapitoliamo, avete il punto vendita di? Di Medìa siamo dove abbiamo iniziato, poi siamo andati a Sant'Alessio, poi Santa Teresa, poi a Lì e ora siamo alle Doiani. Quindi mancherebbe un altro punto vendita dove Ivan? E ora vediamo, siamo forse sulla perla dell'Oioni. sicuramente. Quindi? No, qui. E altri? Ci può essere anche qualche attenzione sicuramente al punto vendita. Però siamo in fase di studi. Ok, abbiamo visto questa splendida serata, abbiamo notato una cosa, appena usciva qualcosa dal punto vendita, qualsiasi cosa di cibo, non toccava a tavola. O le fate così leggere, o io sono così buone che la gente se le prende al volo. Qualcosa ci sarà, secondo noi la qualità che per noi è fondamentale, usare sempre e poi viene tutto. La cortesia, la simpatia che comunque avete, l'avete dimostrato anche mail. È stata la testimonianza dei nostri successi fino ad oggi, tutte le persone che ci sono fuori, grazie a quello che abbiamo creato in questi 15 anni di lavoro. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per questa nuova attività. Allora ci vediamo quando? La prossima? Quando sarà? A presto. Ciao! Ciao!